Buon vita! Mamma, ma ci vai a fare una spesa? Che non c'è più niente. Mi dovete pagare l'affitto. Datemi un altro po' di tempo. Trova i soldi, se no me la caccio. Quello magari tua sorella veramente gli fa i miracoli. Questo ormai è un luogo sacro. Il Dio prega per noi peccatori. Ma perché non lo vedi qui intorno? Come non l'ho vista, è una pazzia. Allora signori, questa è camera mia e io entro quando voglio. Tua sorella è santa. Non lo vedi. Non lo vedi. Ti fa bene una luce, eh? Pure il miracolo dei soldi ti ha fatto, hai visto? Non lo vedi! Non lo vedi! Non lo vedi tutti. Paglie il schifo animale.